Ciao a tutti, buonasera, eccoci nel nostro solito angolino, nell'angolino così, delle riflessioni post partita, insomma, intanto com'è bella la vita quando vince il Milan, no? È una cosa bella, semplice, che noi ci teniamo stretta, noi milanisti, perché ci rende contenti. Noi, il nostro scopo nel calcio non è vincere per infacciarlo agli avversari, il nostro scopo nel calcio è vincere e essere contenti. Siamo diversi, che siamo diversi, di la verità, tu sei l'altro, io sono questo. Allora ragazzi, bando alle ciance e bando alle battute. Bologna Milan è andata, adesso facciamo le nostre riflessioni, ci diciamo le nostre cose. Naturalmente su Bologna Milan ampio spazio, ampia eco, ampio risalto, OneFootball attribuisce tante notizie e tanti aggiornamenti su Bologna Milan, OneFootball è un importante e prestigioso portale di notizie calcistiche italiane, europee e mondiali. OneFootball ha una app che propone anche eventi live, partite, una app gratuita che potete scaricare naturalmente, gratuitamente, l'app di OneFootball nella descrizione di questo video. Allora, intanto parliamo di calcio, che è la cosa più bella, non facciamoci dettare l'agenda da qualche rosicone di passaggio. Parliamo di noi, parliamo del fatto che il Bologna è una bella squadra e lo sapevamo. Io avevo visto, portandomi avanti col lavoro domenica scorsa a Juventus-Bologna, avevo visto l'incisività, la fluidità e il modo buono di portare avanti gli attacchi da parte del Bologna. Bologna che con la Juventus aveva avuto la grande occasione per passare in vantaggio, sull'azione successiva è passata in vantaggio la Juve di un po' girata la partita. E poi Bologna che a fine dicembre aveva comunque imposto il 2-2 in casa all'Atalanta. Quindi avversario forte, avversario importante, avversario di livello, avversario di rilievo. Lo sapevamo, però noi abbiamo concesso troppo per i nostri errori. L'avversario, le sue azioni, è giusto che se le costruisca lui. Noi nel primo tempo, già nel primo tempo, Gigio Donnarumma aveva fatto due parate importanti, la seconda su errore è nostro. E poi abbiamo regalato purtroppo l'ultimo quarto d'ora. È una cosa che facciamo spesso. C'è capitata a Sassuolo, c'è capitata a Cagliari, c'è capitata oggi. Noi nell'ultimo quarto d'ora tendiamo a scendere di tono dal punto di vista della tensione, dal punto di vista dell'elettricità. Abbiamo rischiato oggi di rimettere in discussione una partita che dovevamo solo decidere noi quando chiudere sul 3-0. E quindi se tu non chiudi sul 3-0, poi l'avversario su tuo errore, su tua palla persa, trova il gol e poi può succedere di tutto. Meno male che non è successo, ma può succedere di tutto. Quindi dobbiamo metterci questo nodo nel fazzoletto, essere importanti, duri, tosti anche nell'ultimo quarto d'ora in certe partite. Oggi era fondamentale, venivamo da una settimana devastante, da due settimane devastanti, perché prima di Milano-Atalanta ci hanno tirato dentro la cacciara dei rigori. Prima invece della partita con l'Inter, prima invece della partita col Bologna, ci hanno tirato dentro la cacciara del razzismo. Perché poi, sai, neanche quelli che ci stanno facendo pressione per avere la qualifica di Ibra lo sanno ancora loro che non c'è razzismo e non c'è nessuna discriminazione. È stato uno sbaglio, è stato un errore grosso da parte di Ibra provocare l'avversario andando sul personale, ma mai su tematiche razziste. Paolo Maldini è intervenuto nelle pre-partite. Paolo Maldini è una voce autorevole, una voce importante, una voce trasversale. Paolo Maldini non è un fazioso, Paolo Maldini non è un produttore di tesi precostituite. Paolo Maldini ha detto che Ibra ha difeso i suoi compagni che erano stati aggrediti da Lukaku. Punto. 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 Perché poi quando Lukaku minaccia fisicamente Romagnoli e rifila una sberla sul braccio a Salem Ekers, Ibra la prima cosa che dice a Lukaku è ma datti una calmata, la risposta è se no cosa mi fai e poi tutto questo induce all'errore Ibra. Quindi diciamo che stavamo vincendo noi 1-0 e l'hanno messa in cacciara. E noi nella cacciara non sappiamo muoverci. Questo è un tema storico del Milan. Il Milan non è una squadra da cacciara, il Milan non è una squadra da scorza di limone sul dischetto del rigore per far sbagliare l'avversario. Il Milan è una squadra angelica, il Milan è una squadra fantastica che è stata sulla croce di Risorta, quindi noi siamo estranei a certe furbizie e a certe cacciare. E quindi alla luce di tutto questo siamo arrivati alla parita di oggi. Siamo arrivati alla parita di oggi che per noi era l'ennesima. Noi abbiamo giocato a gennaio tantissimo, noi abbiamo giocato a gennaio tantissime partite. Abbiamo giocato Benevento, Juve, abbiamo giocato col Torino, abbiamo giocato col Cagliari, abbiamo giocato con l'Atalanta, abbiamo giocato oggi col Bologna, sei parite di campionato, abbiamo giocato due partite di Coppa Italia con i tre tempi supplementari. I due tempi supplementari col Torino e il tempo supplementare con l'Inta. Quindi otto partite più tre tempi supplementari dal 30 di gennaio, 27 giorni, insomma otto partite, tre supplementari, 27 giorni e tanta roba. Quindi oggi alcuni giocatori nostri erano stanchi, che si ha dato l'anima ma ha tirato fuori anche quello che non aveva nella riserva del suo serbatoio. Quindi oggi era una partita da sfangare. Adesso abbiamo recuperato Ben Nasser, abbiamo recuperato Cialanoglu, abbiamo delle settimane pulite. Settimane finalmente, non le abbiamo da inizio stagione, non le abbiamo dal famoso Shamrock Rovers Milan di metà settembre. Delle settimane in cui allenarci, delle settimane in cui fare i massaggi che devi fare, fare i ripassi tattici che devi fare, recuperare le motivazioni, distendersi, rasserenarsi, eccetera. Quindi noi dobbiamo estragniarci, come sempre. Paolo Maldini prima della partita ha giustamente detto che non è un problema se non vinciamo lo Scudetto, però è un problema se non ci proviamo. Quindi i nostri tentativi li possiamo fare, li dobbiamo continuare a fare. Abbiamo fatto 46 punti, siamo entrati nel girone di ritorno vincendo come eravamo entrati nel girone d'andata vincendo e come eravamo entrati nel post-lockdown vincendo a Lecce. Quindi insomma auguriamoci che possa essere un portafortuna positivo, giocare alle 15 del sabato, l'avevamo fatto anche l'anno scorso col Cagliari, avevamo vinto 2-0. Ecco qui abbiamo mancato il 2-0 per il gol di Poli. Andrea Poli che ha avuto la sensibilità, ve lo segnalo da milanista vero, di non esultare. Quando Andrea Poli era andato a Bologna e gli dedicai sui social un messaggio accorato, un messaggio autentico, sentito, sincero, qualche stupidotto mi aveva criticato, ma io sapevo l'essenza da milanista, da rosso-nero vero di Andrea Poli che infatti dopo il suo gol non ha esultato ed è rimasto molto molto serio ed ha continuato professionalmente a giocare per il Bologna. Ci tireranno ancora dentro le statistiche dei rigori e non sanno fare altro ragazzi, i rigori ormai io credo che il mondo di quelli che stanno chiamando il presidente Gravina per far squalificare Ibra è il mondo di quelli che contano i rigori, loro non interessa più ormai se il rigore c'è o non c'è, hanno deciso e questi arbitri che ancora non si adeguano al politically correct dei social, i social interisti e i juventini hanno deciso che anche se c'è il rigore al Milan non va più dato, hanno deciso che sono troppi. Quindi a un certo punto io dopo il primo intervento di Skolupski su Ibra ho pensato veramente che ormai da uomini, da uomini umanamente non sto parlando di nient'altro, umanamente gli arbitri, anche loro, recepiscono, gli arbitri non vivono in una torre d'avorio, vivono in questo mondo esattamente come noi, aprono lo smartphone, aprono l'iPhone, vanno sui social esattamente come noi e quando leggono su ogni social quintali, tonnellate di tesi sui troppi rigori a favore del Milan cercano di evitare i danni, per cui poi proprio oggi perché c'è stata la trattenuta di Dijks a Leao e perché c'è stato il doppio tocco di pallavolo di Sumauró sul secondo rigore, se no, perché ormai loro hanno deciso che anche se c'è il doppio tocco in area, il rigore dei rigori, al Milan i dati troppi non devi dare, per cui adesso anche se il rigore c'era a loro non interessa, io penso che prima della fine del campionato la introdurranno la regola, Milan troppi rigori, basta, tetto e rigori, prima ancora del tetto e gli ingaggi inseguito e mai realizzato faranno il tetto e rigori, faranno andare il pubblico negli stadi giusto perché bisogna agitare emotivamente il Milan, daranno 97 mila giornate di squalifica a Ibra per fargli finire la carriera perché Ibra si permette ancora di giocare a pallone e quindi, giusto per il gusto di farlo, perché a nessuno di quelli che parla di razzismo, io da chi devo prendere lezioni di razzismo, ragazzi? Da chi gli grida la zingalo? Adesso io non voglio avvelenare il clima e non faccio gli episodi precedenti, ma se mi metto a fare gli episodi precedenti sul razzismo, tiriamo notte. Io devo prendere lezioni di razzismo da lì? Ragazzi, anche no, anche no, ma nessuno interessa a razzismo, no? Alla gente interessa che venga squalificato Ibra. Ditelo, ditelo così, è più scoperto, più trasparente, più manifesto il tentativo. Così come mi ha colpito molto l'intervento duro del Presidente Federale Gravina. Presidente Federale Gravina che non sento, perché è stata una brutta scena, un ok corre al pessimo, quello fra Ibra Lukaku, ma anche quello fra gli insegnanti di Perugia e Suarez non è stato niente male. Però li zitti. Rispetto a certi fatti, rispetto a certe cose, non ci sono prese di posizione dure. Non sono quelle brutte scene, quelle van bene. Dai, tanto siamo abituati nella nostra storia, essere messi in mezzo. Una volta in più, una volta in meno. Lo sappiamo che alla fine, quando c'è qualcosa, quando c'è qualcosa, allora, hanno tollerato Juve Napoli, hanno tollerato Suarez. Appena arriva il Minam, poi bisogna cercare di essere esemplari, anche per far dimenticare Suarez e Juve Napoli. Capito il giochino? E naturalmente chi ci finisce in mezzo? Noi. Però, voglio dire, Paolo Maldini oggi ha detto e ripetuto e ribadito che quello di Ibra non era razzismo. Se fosse stato razzismo Paolo Maldini l'avrebbe detto. E lo sanno tutti quelli che, da tifosi avversari, hanno sempre elogiato la trasversalità, l'imparzialità e la correttezza di Paolo Maldini. Io sono fazioso e non mi nascondo dietro un dito. Certo che sono fazioso. Certo che sono fazioso perché è anche un po' il mio modo di vivere la storia rossonera, di chi ne ha subite veramente tante e quindi alza sempre la guardia. Ma Paolo Maldini è lontano dalle nostre tensioni, dalle nostre faziosità, dalle nostre piccolezze. Per cui se Paolo Maldini dice che non è razzismo, lo dice una persona che vale la pena ascoltare. Tutto, ragazzi. Noi ci ritroviamo, ci risentiamo durante la settimana a partire da domani. Ciao a tutti.